E' il diciassettesimo, veemente manovra Schachner, Dossena Schachner con la violenta conclusione dell'austriaco che batte Mannini. Ventiseiesimo, corner di Hernandez e stupenda azione di Dossena che supera due avversari e centra. Testa di Schachner ed è il 2 a 0. Quarantaquattresimo minuto, lungo lancio di Giovannelli per Berggren che tocca di testa, pallone buono per Birigozzi che batte Terraneo. Trentatresimo minuto, centro di sala da fondo campo, deviazione di Danova, colpo di testa di Massimi ed il pallone si infila nel 7 e il pareggio per il Pisa.